ragazzi benvenuti sul mio canale benvenuti a questa nuova recensione io mi chiamo alessandro e oggi vi parlo di mad heidi voi sapete questo non è un canale normale come tutti quanti gli altri che stanno parlando di megani sono parlando di avatar tutte quelle altre fesserie che sono usciti in questi giorni qui si parla soltanto di cose strane che vedo solo io e che vi segnalo perché vale la pena di vedere che mi risponderesse se vi dicessi che haidi così come la conosciamo noi la conoscete no è cresciuta è diventata una super sa per liberare la svizzera dominata da un governo nazista mi chiederesti mi prendereste per pazzo ebbene hanno fatto anche questo tipo di film adesso ve lo racconto perché vale veramente la pena di essere visti un film tarantiniano pieno di citazioni tarantiniane per non parlare di citazioni di tutti gli action movie degli anni 80 degli anni 90 dei bimovie il regista ha studiato tantissime si è divertita a mettere di tutto in questo film che il film si apre con una mattanza po di persone davanti al palazzo presidenziale viene sterminato dal capo delle guardie ferocissimo il comandante knorr hanno protestando nei confronti del leader questo nazista fascista simil hitler che è l'unico grosso produttore di formaggio svizzero che l'unico alimento permesso in questa svizzera distopica di un futuro che in realtà è passato perché guardando un po la tecnologia che a disposizione i telefoni che usano io penso che siamo metà anni 80 inizio anni 90 si troviamo haidi sulle montagne con il nonno che è l'unica televisione del film perché non assomiglia per niente al nonno di haidi che scopriamo poi successivamente essere un ex membro della resistenza che ha lottato contro questo nazista ritirato ed è diventato contadino haidi vive la sua gioventù saluta armonia con peter si divertono beati loro nel fienile però veniamo a sapere che peter in realtà ha una seconda vita un produttore di formaggio alternativo a quello del leader supremo si aggira per la città come un pappone americano dei film anni 80 con la pelliccia con questo cappello musa camminata laudicante dei neri dei bimovie anni anni 80 viene venerato dalle ragazze che cadono nei suoi piedi volta che il leader supremo è venuto a conoscenza del fatto che che peter è un suo antagonista lo fa fuori sulla pubblica piazza e qui haidi impazzisce prende a calci delle palle i soldati fugge via sulla motocicletta ma ben presto viene presa e sbattuto in prigione in prigione assistiamo a scena un po tipo porno soft lesbo quelle lì delle prigioni femminili per farvi capire perché abbiamo una direttrice attivissima malvaggia che è veramente la dominatrice sessuale del comandante nord i due si inventano di notte e questa direttrice le infila nell'anno di knorr di tutto all'istre giganti con i trapani un po come top secret una capo carceraria la signorina rottweiler che è un po diciamo così un richiamo alla sintonia rottermeyer anche sta ferocissima che tortura le ragazze con questo bastone elettrico abbiamo due ragazze forzutissime che sono due culturiste che se ne fanno schiave sessuale tutte le ragazze nuove che arrivano cercano di farlo anche con haidi e con una sua amica con l'amica ci riescono con haidi purtroppo no perché haidi reagisce becca un sacco di botte ma non viene ammazzata perché nel frattempo interviene lo svizzerone capo littler svizzero che si è innamorato perduramente di haidi e vuole che lei diventi l'immagine della prossima parata militare che lui farà per dimostrare al mondo la sua forza dare ma haidi naturalmente non ci sa fugge le guardie la inseguono la mettono a spalle al muro ad un burrone questi siamo nella scena alla rambo perché le si butta nel film e pur di non cadere preda di queste persone è salvata da una figura che un po un misto fra una maga una fata un'entità astratta che madre svizzera la parte buona della svizzera che la salva e comincia qui un allenamento uguale a quello di kill bill con il monaco che vive sulle montagne questa fatale insegna il kung fu le insegna il karate le insegna ad usare la katana di lei diventa una forza della natura ma viene sconfitta da chi una scena che mi ha lasciato particolarmente sorpreso e mi ha divertito tantissimo un impiegatuccio insulso che mette solamente i timbri su dei fogli non fatto che fare questo tra mattina alla sera riceve una telefonata attacca il telefono va verso un armadio a per l'armadio e dentro c'è un costume da toro sadomaso con le catene le borchie e le corna un po come lo schiavo sessuale sempre di pop fiction di tarantino va incontra id e la distrugge viene portata nello stadio dove vede una sorta di corrida tra tutte le ragazze della prigione all'ultimo sangue naturalmente rimangono soltanto le due culturiste una viene fatta fuori da id l'altra invece la finalissima diciamo così con ai di parola e le dice perché non collaboriamo invece di ammazzarci ci qualizziamo contro il leader la ragazza non ne vuole sapere a quel punto però le prende dai di che diventata fortissima ma interviene un'altra volta questo toro sadomaso che tra l'altro lancia dalle mani catene con delle stelle appunti dalla fine anche qui un richiamo guardate la ragazza della scena degli 88 folli di di kill bill e anche il toro sadomaso deve soccumbare alla nuova haidi diventata poderosissima le stagli stacca la testa con la katana e se la vede con il nord il capo delle guardie che viene imparato dalla bandiera svizzera a questo punto ve lancio all'arma e spoiler perché di più a poco vi racconto il finale ma se non lo volete sapere andate a vedere questo film perché se amati a tarantino lo dovete assolutamente vedere scena da 16 9 al super 8 bianco e nero a colori un'alternanza tarantino che non fa capire niente è un carrozzone fracassosissimo e divertentissimo una volta ucciso il capo delle guardie impalato con la bandiera svizzera lo svizzerone scappa nella sua fabbrica di formaggio haidi lo insegue e qui veniamo a conoscenza di una cosa terrificante lui ha progettato un formaggio che ha più del 90 per cento di caseina che rende chi lo mangia uno zombie lo sfigura e questo soldato perfetto obbedisce a tutti gli ordini del capo addirittura squarta un dottore mettendo gli rimani nella pancia e quindi aprendolo non manca nel film anche il dottor mengel c'è il capo degli scienziati del pazzo svizzero il quale ha progettato questo formaggio che creerà un esercito potentissimo e perfetto lui scappa in questa fabbrica però viene inseguito da haidi viene inseguito anche dal nonno di haidi che nel frattempo si è di congiunto con i suoi ex compagni della resistenza comincia una battaglia l'interno di questo stadio bellissima molto molto fatta bene tra nani giganti donne forzute non si capisce niente un circo ripeto haidi becca il nazista svizzero prende un tubo di quelli che usato per estrarre il latte glielo infila nel culo il latte comincia a pompare riesce dalla testa fino a quando gli esplode il cervello devo aver infilato questa lancia spara latte nel culo e dovevi fatto esplodere il cervello con tutti il latte che riesce dall'orecchio dal naso e poi dalla testa haidi si rivolge al nazista che dice rest in cheese anni che non può essere tradotto naturalmente né in spagnolo né in italiano nessun altra lingua tra l'altro vengono liberate dalla fabbrica delle donne perché questo formaggio tra potente che rende gli uomini zombie e schiavi si scopre viene estratto dalle mammelle delle donne a quattro zampe con i succhi al latte sulle mammelle e si vede mentre gli succhi nel latte per creare questo solo questa sostanza speciale nella fabbrica viene fatta saltare non odiati tra l'altro si sacrifica perché viene ferito e quindi sa di essere morto del lui che fa saltare la bomba e guardatevi la bomba perché la bomba è una catasta di tnt si vede con l'orologio per farla saltare che l'orologio è l'orologio svizzero con la cucù uno dei dettagli in questo film bisognerebbe vederlo tra quattro volte per vederli tutti una cosa spettacolare alla fine la fabbrica scoppia e si vede questa scena bellissima tipica di tutti i film d'azione degli eroi che escono dalla fabbrica che esplode dietro che con loro che vanno verso il futuro ed il film finisce in che modo con Heidi e la sua amica intercettano il famoso dottore pazzo quello che aveva creato questo formaggio che ha una scorta di questo formaggio in un furgoncino lo distruggono e fanno capire insomma che vanno verso un futuro dove probabilmente dovranno affrontare altre avventure per un film fantastico per chi ama i film di fantascienza distopici horror questo veramente non bisogna lasciar solo scappare ragazzi ringraziamenti di rito mettete like condividete il canale condividete il video invitate i vostri amici ad iscrivervi se vi piacciono questo tipo di film mi raccomando campanella per restare sempre aggiornati vi aspetto alla prossima recensione ciao